Un nuovo video ed una nuova antologia delle sue canzoni per Adriano Celentano, Vincenzo Mollica. Ma sono certo che da quel giorno tu mi sei scoppiata dentro E cosa importa se non ricordo più se nella pelle ci sei ancora tu 4GD è un libro introdotto dalle parole della poetessa Alda Merini che scrive Il ritmo di Adriano e il ritmo del sangue Così si presenta l'antologia più autobiografica mai fatta da Celentano Vita e Arte in 63 canzoni Titolo Adriano Uno dei tre inediti lo ha scritto Giuliano Sangiorgi E Celentano lo canta accompagnato dai Negramaro Al telefono Giuliano Sangiorgi Adriano è l'artista del presente sempre Ha quelle corde vocali, ha quella corda emotiva Che riesce a toccarti l'anima in qualsiasi momento dell'esistenza Lui mi chiama e fa al telefono We Amaro Allora io gli dico We Aleano Andiamo in tour insieme e spacchiamo il mondo Una curiosità del nuovo video di Celentano Per la prima volta i protagonisti sono solo lui e la moglie musa Claudia Mori Lei che conquistò il molleggiato a suon di schioppettate nel loro primo film che fu Galeotto Esattamente 50 anni fa Porco Giuda ma cos'è che è successo? Che è successo brutta fatente? E tieni pure il coraggio di farti vedere il video dopo quello che mi ha detto Così ridevo